L'accusa era quella di avere ricettato 500 kg di formaggio rubato alla ditta Zappalà. Accusa costata la conferma in appello della condanna a sei mesi al riesino Luigi Larosa, 54 anni. La corte d'appello ha assolto il rumeno Ciprian Corneanu, 31 anni, al quale è stata cancellata la pena di nove mesi e inflitta in primo grado. Era il 22 febbraio 2015 quando i carabinieri, nel corso di un controllo nelle campagne della provincia nissena, trovarono a bordo delle auto intestate ai due imputati mezza tonnellata di prodotti caseari che risultarono rubati all'azienda Zappalà. Trattandosi di prodotti di provenienza illecita scattò l'accusa di ricettazione. Non sono stati invece identificati gli autori del furto. Corneanu, secondo l'accusa, aveva pure sostenuto falsamente di avere subito il furto della propria auto, ma su questo aspetto l'avvocato difensore Giovanni Maggio, nel chiedere la soluzione, ha sostenuto che il rumeno non era presente quando l'auto venne ritrovata e quindi non poteva essere esclusa l'ipotesi che la vettura fosse stata rubata.